Cossetto non è stata colpita in quanto italiana, è stata colpita perché il padre della Cossetto era un podestà di quelle zone. E di riferimenti storici riferiti a Norma Cossetto, al di là effettivamente del ritrovamento del corpo, purtroppo ne abbiamo molti pochi. Dà un valore a una giovane donna enorme, ma che rappresenta di fatto il simbolo della violenza e dello stato totalitario alla quale ci siamo ribellati 80 anni fa. Un simbolo del fascismo, così di fatto viene definita Norma Cossetto dal consigliere Alessandro Boldo, eletto tra le file dei democratici per Castelfranco, ma è tutta l'opposizione uscire dall'aula quando la mozione di Fratelli d'Italia viene messa al voto in tarda serata in Consiglio Comunale. L'idea è quella di intitolare una panchina azzurra alla giovane donna istriana, seviziata, violentata e poi infuibata dai partigiani titini nel 1943. Una storia dimenticata per decenni, insieme a quella delle foibe, solo recentemente riportata alla memoria collettiva, è del 2005 il conferimento a Cossetto, da parte del capo dello stato Ciampi, della medaglia d'oro al valore civile. A 17 anni da quel gesto, che doveva riappacificare il paese sull'esodo istriano d'Almata e sulle sue cause, lo strappo della minoranza castellana, forte di una lettera della sezione locale dell'Ampi, che invitava il ritiro della mozione, denunciando l'equiparazione tra vincitori e vinti. A darne lettura la consigliera Serena Stangerlin. Temiamo però che la mozione presentata non abbia lo scopo di onorare una giovane donna perseguitata, ma persegua l'obiettivo di riabilitare non la vittima, ma la giovane fascista, figlia di un podestà che invocava il duce. Alla fine la mozione è passata con l'astensione dei tre consiglieri leghisti, recentemente fuoriusciti dalla maggioranza. Norma avrà la sua panchina azzurra. Il punto è stato portato a casa e andremo avanti su questa strada dell'onorificenza della panchina a Norma Cossetto. Penso che, se posso dire, dovrebbe essere fatta da parte loro un'autocritica rispetto ai toni che hanno usato, soprattutto, e anche rispetto a quella sorta di volontà di voler continuamente creare due fazioni quando in realtà questa caccia alle streghe non serve più. Discussione infuocata nella città di una partigiana d'oc come Tinan Selmi. Altro dettaglio emerso nella discussione durata più di un'ora e segnale che sulle foibe la memoria collettiva non ha davvero fatto pace.